In realtà cercherò di inquadrare quello che oggi è l'oggetto della discussione partendo da un trend oggettivo. Prima con il presidente Eurispes si commentavano gli ultimi eventi che appaiono un po' collegati tra loro, sempre i grandi eventi nel mondo, speriamo in particolare oggi, sono collegati tra loro, basta pensare, senza voler fare alcun riferimento così terribile, basti pensare che l'epoca successiva, la prima guerra mondiale e l'Europa delle Nazioni fu caratterizzato dalla nascita delle grandi dittature che evidentemente avevano una connessione tra loro. Gli eventi di questi anni, ne vedremo ancora altri, pongono di fronte un dato oggettivo che può avere tante letture. La lettura però certa è che da un punto di vista degli orientamenti, delle popolazioni mondiali, noi viviamo dopo circa un trentennio senza grossi stravolgimenti da un punto di vista degli assetti tra virgolette istituzionali e anche dagli assetti economici, viviamo una reazione contro i cosiddetti establishment, un tempo li avremmo qualificati poteri forti, poteri consolidati. Il dato oggettivo è questo, alla luce del quale si spiega quello che sta accadendo un po' nel mondo. Perché dobbiamo chiederci e quindi dobbiamo cercare di lavorare in questa direzione? Perché accade questo? Perché noi abbiamo vissuto un secolo e mezzo caratterizzato comunque da rimescolamenti, rimescolamenti istituzionali, rimescolamenti politici, rimescolamenti economici. In realtà a ben pensare a partire dalla caduta del muro noi abbiamo avuto un consolidamento di determinate posizioni. Come capita in economia, in realtà il consolidamento tende a generare gli olicopoli in tutti i segmenti dello Stato, degli Stati, ancora di più di tutti i Paesi. E oggi un grande tema che è all'attenzione degli Stati Uniti che ha vissuto la sua grandezza in realtà proprio sulla possibilità di dare apertura alle energie nuove, alle energie fresche, agli uomini nuovi, soffre anche quel Paese che ricordo a me stesso fu il primo a individuare una legge antitrasta addirittura nel 1860, pensate che la legge italiana risale a 1990, quindi a 130 anni dopo, lo Sherman Act di John Sherman, questo senatore dell'Ohio, che individuò già nell'antitrust, cioè nell'impedire la creazione di olicopoli e di monopoli che in qualche modo bloccassero l'economia, bloccassero alla fine le istituzioni con quello che gli economisti chiamano la cattura del regolatore da parte evidentemente degli olicopoli. Ebbene, gli stessi Stati Uniti che hanno avuto la forza di essere i primi tra tutti a in qualche modo impedire barriere, impedire democrazie bloccate, impedire alle energie nuove di farsi strada, risentono di questo tema. La vicenda Trump è sotto gli occhi di tutti, più le grandi istituzioni, le grandi forze del paese si aggregavano intorno a una certa idea progettuale degli Stati Uniti, tanto più il resto del paese si articolava altrove. L'abbiamo vissuto anche noi, lo stiamo vivendo anche noi, quando più in realtà anche dei movimenti, senza andare a uno specifico politico, rappresentano talora, non dico una inadeguatezza ma diciamo una mancanza di abitudine all'organizzazione dello Stato, tanto più l'effetto è esattamente l'opposto di quello che noi immagineremo. Ora perché accade tutto questo? Perché il dato di partenza è ahimè vero. È d'altra parte nella natura delle persone in realtà tendere a creare posizioni di privilegio e tendere ad impedirne l'accesso agli altri ma questo è diventato adesso un fatto di natura patologica. Quindi la regolazione principale dei paesi, dalla giustizia all'economia, alla politica, deve porsi questo problema anche perché non lo deve. Io credo sempre poco nell'etica individuale che costruisce lo sviluppo e le rivoluzioni. Io che sono ahimè un appartenente a quella che è stata definita una delle caste per eccellenza del nostro paese, cioè quella dell'università, anche se sono di prima generazione in questo lavoro. In realtà devo verificare che effettivamente ricordo una battuta che fece il mio professore americano quando ero dottorando di ricerca a Berkeley in California e disse, sa qual è il vostro problema dottore? I concorsi sono troppo poco truccati. Mi sembrò una battuta, poi lui mi spiegò che cosa voleva significare. In realtà negli Stati Uniti a seguito dell'abolizione del titolo legale, del valore legale del titolo di studio, della laurea, in realtà sono stati sostanzialmente destrutturati i professori, nel senso che i professori sono prevalentemente precari, precari di altissimo livello come sono talora i calciatori delle squadre di Serie A o di Champions League, i quali in realtà hanno dei contratti talora anche di grandissimo valore economico che si viene conteso tra le prime 50 università, tenete conto lì ci saranno 15.000, 20.000 Atenei ma in realtà ne contano 300 perché non avendo valore legale il titolo di studio, a secondo della collocazione di quella università nel rating, in buona sostanza le rette aumentano, i privati, cioè dagli studi legali, dagli studi commercialisti, alle aziende puntano su cavalli vincenti del futuro nei college, quindi pagano parte delle rette che possono arrivare anche a 250.000, 300.000 dollari l'anno e in buona sostanza lui mi rappresentava come lì si diventasse professore ordinario, cioè il corrispondente nostro qui in Italia fu il professor con una mera cooptazione, era il professore di quell'Ateneo di El, individuare il soggetto evidentemente più adeguato, solo che praticamente capitava che se quello era in realtà un'operazione di nepotismo ricacciamolo entrambi, ma in maniera concreta. Tutto questo, al di là dell'etica, a certe volte si chiede com'è che funziona, su una struttura efficientistica per cui in realtà, certamente non voglio dire che quello è il modello per eccellenza, come sapete manca tanto welfare, manca tanto profilo, però in realtà il paese nasce da una base calvinista per cui una meritocrazia di tipo quasi ancestrale, religiosa, per cui ciascuno ha quello che vuole ottenere ed evidentemente quello è stato il percorso. Ebbene, se gli Stati Uniti soffrono questo, gli Stati Uniti sono gli stessi che hanno avuto il coraggio per primi di contestare circa un anno e mezzo fa il tema noto dell'estero vestizione di Apple, che notoriamente in realtà si è trovata ad essere contestata, Apple all'epoca era la prima società quotata negli Stati Uniti che da solo capitalizza l'intero mercato quotato delle società italiane, da sola. In realtà eppure si posero il problema, una società quotata con quella capitalizzazione del proprio paese, si pose il problema del pagamento evidentemente delle imposte in paesi, si tratta in quel caso dell'Irlanda dove attraverso dei transfer pricing dei prezzi delle varie aziende si arrivava a scegliere un paese, secondo un forum shopping, che poi è il tema di cui parleremo oggi, in negativo. Esistono due modelli di forum shopping, quello deteriore, pregiudizievole, osceno talvolta che trova la sua esemplificazione massima nell'insolvency tourism, cioè addirittura nel turismo dell'insolvenza, in questi ultimi anni si è caratterizzata anche l'Europa per una operazione, a cominciare dalla famosa caso della Cassazione a Sezioni Unite, del caso Danilo Coppola, del trasferimento delle sede indebitate, delle società indebitate con il fisco in Lituania e in Romania, in realtà è in quella prospettiva invece positiva, fisiologica, di cui oggi in realtà dobbiamo parlare, del forum shopping in senso positivo. Io quando parlavo prima della mia esperienza americana, studiai all'epoca, la mia tesi di dottorato era il caso Delaware, Delaware era un caso che si era aperto alcuni anni, ma caso in positivo, dovete sapere che in questo piccolo paese degli Stati Uniti, piccolissimo, forse se non il più piccolo degli stati americani, in realtà si allocano le più grandi società quotate nel mondo, compreso le prime dieci del mercato americano. Bene, verrebbe quasi naturale pensare che lì è una sorta di Cayman oppure di Virgin Island o volendo stare all'Europa dell'isola di Mann, invece è esattamente l'opposto. In realtà negli anni si è creata una classe di magistrati, di avvocati, commercialisti, di sistema per cui le società si allocano, allocano in particolare le loro sedi legali in quel paese perché dove hanno la maggiore certezza del diritto. E il che non vuol dire che hanno ragione, hanno mal certezza del diritto anche quando hanno torto nel giudizio o nelle cause, perché questo paradossalmente è diventato uno degli elementi di maggiore attrazione di grandi società al mondo. E paradossalmente se si vanno a guardare i dati Ocse, penso che Gian Maria dopo il presidente Fara di Eurispes probabilmente ci darà anche dato in questo senso, se in realtà si vanno a guardare i dati Ocse, eventi come in realtà la delinquenza associativa, anche la mafia, la camorra, incidono molto meno nella non attrazione delle risorse rispetto a eventi come l'efficacia e l'inefficienza della giustizia. Paradossalmente oggi c'è addirittura un forum shopping al mondo, al contrario, notoriamente alcune organizzazioni criminali, anche italiane, scelgono paesi dell'Europa in cui non esistono ancora, oggi abbiamo l'onore di avere il prefetto Urtaia che è il commissario anti-racket del paese, cui ringrazio per la presenza. In realtà addirittura ci sono alcuni paesi in Europa che non hanno ancora legislazioni sul cosiddetto 416 bis, cioè l'associazione delinquiti stampo mafioso, ed hanno legislazioni in realtà la cui pena più grave è quella contro le associazioni segrete, tipo la massoneria, pene ridicole. Pensate c'è un forum shopping legato a questo, sembra un paradosso ma è la realtà e noi pensiamo talvolta di vederci meno impegnati nei confronti dell'associazione delinquiti hanno trovato paesi più ricchi e legislazioni più favorebili. Ora come affrontare tutto questo? Noi avremo le conclusioni del sottosegretario Ferri e in realtà e quindi la prospettiva chiaramente che si è inteso dare a questo incontro di oggi, ne parlerà anche il consigliere Graziano, magistrato impegnato sotto tutti i profili, se non solo del suo lavoro ma di quelle che sono in realtà formazione dei giovani giuristi, nonché partecipazione ad iniziative anche in segmenti affini, proprio legati alla mafia in cui ha dato un contributo importante. Il tema vero è che noi dobbiamo invece di pensare ogni volta a grandi rivoluzioni che poi alla fine finiscono a non cambiare nulla, seguire delle tracce. In Italia molto spesso si abbandona il certo per l'incerto in segmenti che hanno una grande qualità anche dell'esperienza, non c'è, ecco il mitico sottosegretario, il quale mi confermerà che per esempio non c'è persona, non c'è persona appartenendo io forse all'ultima generazione di giuristi che le ha vissute, non c'è persona, per farvi un esempio banale, che in realtà non rimpiange la figura del pretore, ma non c'è uno, mentre ci sono argomenti sui quali c'è da discutere, io parlo con qualsiasi giurista, operatore, il quale rimpiange la figura del pretore, che era una figura evidentemente troppo rapidamente scomparsa all'ordinamento. Ma il tema, come dicevo prima, è più generale. Occorre dare spazio ad energie nuove e puntare su alcune tematiche, a profitto dell'arrivo, siamo arrivati nell'ambito giuridico perché stiamo facendo la risoluzione del convegno, in realtà a profitto della presenza di un membro così autorevole del governo, autorevole soprattutto per competenza, prima ancora che per capacità di determinazione. In realtà ci sono alcune cose che obiettivamente hanno registrato, lo dico da operatore, prima ancora che da giurista, hanno registrato un impatto positivo, ad esempio il Tribunale delle Imprese, il Tribunale delle Imprese è oggettivamente una ottima realizzazione, si può migliorare ma è la strada e quella giusta, probabilmente nel segmento del Tribunale delle Imprese bisogna pensare a un Tribunale delle Imprese anche per le sezioni penali, bisogna in realtà comprendere che ormai l'asse dell'ordinamento si è spostato verso il penale per una inevitabile conseguenza nel momento in cui il Paese va verso una scelta soprattutto nelle riforme societarie, nelle riforme fallimentari, di tutto sul mercato si equilibra col sistema dei prezzi, ovvio che poi quando in realtà la tutela risarcitoria in luogo di quella penale non si realizza c'è uno spostamento in quel senso, ma con lo stesso spostamento, con lo stesso spostamento dobbiamo pensare che se l'asse va anche in quella direzione bisogna recuperare una sensibilità a quei temi, una sensibilità che chiaramente richiede da un lato una formazione a quei temi e dall'altro richiede evidentemente una qualificazione specialistica. Ugualemente possiamo dire in altri segmenti, un esempio banale, proprio nel mio settore io sono un ordinario diritto commerciale, nel mio settore è in atto come leggete dai giornali la ormai mitica se non famigerata riforma Roldorf perché è la prima volta che una riforma in realtà viene qualificata in tre pezzi con prima un disegno di legge delega, poi una legge delega e poi l'attuazione di questa legge. E paradossalmente questa ricerca, dovete sapere che nei primi anni dopo la norma io vedevo cento concordati che mi venivano sottoposti e nessuno lo ritenevo realizzabile perché non c'erano le condizioni eppure quei cento concordati sono stati presentati da qualcuno, oggi abbiamo un giudice fallimentare esperto e a un certo punto io ho cominciato a pensare che qualcuno avesse letto la riforma come se chi fosse in crisi avesse vinto una schedina al totocalcio perché paradossalmente ho cominciato a chiedermi perché un'impresa normalmente per essere assistita bene in un'onesta domanda di autofallimento dell'onesto imprenditore che ha avuto un momento di crisi, ha costi per pochi euro e invece un'impresa che va inconcordata che non solo deve recuperare dalle proprie energie una capacità di innamoramento ma in realtà spende un botto e mi sono accorto che in realtà si sono diffusi i venditori di sogni, è un po' come in realtà quando uno va da un medium a vedere, a poter parlare col figlio morto, questo è stato il comportamento, ride il perché evidentemente è da ridere e per arrivare a una situazione in cui abbiamo piani di risanamento, accordi di strutturazione che perdonatemi io sono un po' diciamo naif nelle mie esternazioni ma cerco di essere efficienti, sono diventate le nuove marchette del sistema bancario in maniera allucinante con situazioni di eterodirezione e coordinamento di natura diciamo di fatto che poi esploderanno e noi ci troveremo all'improvviso come quando accadde Ciro e Parma, diciamo madonna ma che stava succedendo tutto questo, ve lo posso certificare, oggi imprese medie, piccole, grandi, viene suggerito nell'orecchio cosa fare, quando fare, sempre male con procedure che durano due, tre, quattro anni fino a scaturire, poi sono difensori dei pubblici ministeri, questi pubblici ministeri sempre richiamati come i cattivi della situazione, quali pongono fine a degli scempi e questo per dire cosa? Che stando all'attuazione normativa, che in realtà quando ci fu la legge del 2004 si disse guardate dati statistici, ancora qui come richiamavo per l'università l'efficacia, il modello di efficacia, di analisi economica dell'impatto normativo del sistema americano, in realtà si era scoperto che in realtà una disciplina eccessivamente sanzionatoria produceva una cosa che si chiama overinvestment, cioè il tutto per tutto e provocava statisticamente i veri guasti, che poi nella nostra esperienza ce ne accorgiamo tutti i giorni, proprio nel momento dell'insolvenza, per evitare il tutto per tutto e cosa si fece? Si fecero degli interventi di tipo quasi, voglio dire, sloganistici, quindi togliamo il registro delle imprese dei falliti, ma vi posso certificare che nessuno si era andato a guardare queste imprese, o il voto, facciamo votare, o la posta o la corrispondenza che riguardava l'imprenditore individuale, o il discharge, cioè la sdebitazione che ha riguardato solo l'imprenditore individuale, ormai fenomeno pressoché inesistente nella pratica. E invece non si è guardato a quello, ma attenzione, non perché si dovesse necessariamente depotenziare la portata dell'apparato normativo, ma se noi andate a guardare oggi uno dei grandi temi sul tavolo è la gestione della bancarotta. In tutti i paesi più evoluti, se in realtà io rubo tutta la cassa dell'impresa e l'impresa fallisce, mi buttano in galera e in realtà buttano la chiave. Viceversa oggi abbiamo condizioni paradossali in cui anche un esperto del settore come me ha un sindaco, un povero sindaco di una società, non sappiamo cosa dire, perché con diciamo delle concezioni tipo il dolo eventuale o la dissipazione, che sono temi evanescenti, può essere che uno è andato in una salumeria a farsi un panino e si trova concorrente in banca rotta fraudolenta, senza nessuna specificità di paese. Attenzione, quando un paese non dà norme chiare sui comportamenti, finisce in realtà semplicemente per acuire il caos, perché dice tanto non c'è nulla da fare, qual è il comportamento virtuoso? Allora ha messo sullo stesso piano una banca rotta fraudolenta aggravata di uno che si è rubato tutto, se ne è scappato e ha fatto sostanzialmente fallire l'azienda ed uno che invece ha fatto un'omissione di controllo in situazioni paradossali, non è possibile che non ci sia distinzione di reato. E quindi la riforma della legge fallimentare la possiamo fare altre 300 volte. Il tema centrale è quello che l'imprenditore in bonus o in crisi non si avvicina al sistema giudiziario. L'Italia è caratterizzata come paese dall'unica in assoluta al mondo circostanza in cui esistono le procedure politico-amministrative, cioè la liquidazione quattro amministrative e per metà le amministrazioni sociali. È proprio l'unico. Perché? Perché per anni si è stati convinti che il giudice non possa farsi mediatore, nel senso nobile, delle istanze sociali e possa essere semplicemente il materiale garante dell'esecuzione dei crediti. Questo tema, stando alla giustizia, è un tema centrale perché posso dirvi, io ho fatto il commissario straordinario, ho fatto il commissario giudiziale, ho fatto il curatore, sono curatore oggi della principale società pubblica, forse nel paese che è Bagnoli Futura. In realtà mi accorgo in maniera oggettiva che la prospettiva in cui l'imprenditore vede l'istituzione giudice è una prospettiva inadeguata, anche perché il giudice è grato, posso dirvelo e ve lo può dire anche oggi nella doppia veste il sottosegretario, che il peggior giudice è mille volte meglio per una procedura, diciamo e lo dico da commissario straordinario plurinominato e non di quelli che dicono faccio il curatore, mille volte meglio, perché garante di soprattutto il giudice esperto nelle procedure concorsuali. Ora avvicinarsi a questo mondo con la paura dell'incombenza di tutto ciò e con dei mestatori che dicono guarda tu stai fallendo, non ti preoccupare, è un premio, quindi tu basta che dai una e recuperi queste tematiche. Allora tirando le fila del discorso, io non credo nelle affermazioni generaliste, generiche, tipo bisogna ripartire dalla scuola, sentiamo ogni campagna elettorale, bisogna ripartire dai giovani, bisogna cominciare dalla scuola. Poi l'unica cosa buona, mi ricordo che ho scoperto, scoperto a un certo punto che mio figlio stava al primo liceo classico, io continuavo a dire quarto ginnasio, chissà perché queste cose all'italiano, forse una cosa bella anche esteticamente, che in Italia, no una cosa bella, primo liceo, io ho scoperto che non si chiamava più quarto ginnasio, cioè una delle riforme è tutto inutili, cioè una cosa bella anche all'estero, anche da guardare, perché aveva tutto un significato legato alla nostra tradizione, diciamo, culturale, alla sedimentazione della nostra humanitas, nel senso latino del termine, beh, togliamola e così io scopro a un certo punto che mio figlio non poteva più fare il quarto ginnasio perché in realtà è il liceo classico, per fare una battuta, c'erano cose molto più serie da fare che cambiare i nomi, per di più di cose che avevano una loro sacralità, questa volta positiva. Il tema è che temo molto in questo momento storico le riforme per slogan, noi abbiamo avuto un lungo periodo, per la verità destra, sinistra, centro, dove gli slogan imperavano, potrei dirvi nel mio settore 50, immaginate abbiamo fatto 4-5 anni sulle SRL che non dovevano avere il capitale minimo, ma nessuno mai non ha costituito di un SRL perché doveva versare 2.500 euro di capitale. Quindi la cosa reale è che noi dobbiamo cercare di recuperare tutto ciò che di positivo c'è e rafforzarlo, cioè ragionare bene sulle cose che funzionano e potenziarle, evitare degli stravolgimenti che soprattutto scimmiottano altri paesi. Vi faccio un esempio banale e poi concludo. Dovete sapere che tutta la riforma delle società e delle imprese nel 2003 si basa sulla nascita di nuovi strumenti finanziari. Furono introdotti praticamente, dice l'Italia non va avanti perché è bancocentrica, occorrono nuove forme di investimento nelle società, occorre aprire il mercato dei capitali e allora si sono copiate dall'America le cosiddette tracking stocks, cioè alphabet stocks che furono inventate nel 1984 dalla General Motors per comprare l'Electronic Data System, la Hughes Eyecraft, ma cosa è successo? Si sono inventati titoli di debito per l'SRL che nessuno di questi strumenti è utilizzato. Ma perché non è utilizzato? Perché non esiste il mercato dei capitali. Cosa serve fare una riforma societaria quando in realtà non esiste il mercato dei capitali? Quando voi sentite in televisione quelle parlate del tipo ah l'America è un paese straordinario perché investono le banche, vedono l'idea del ragazzo e gli danno i soldi. Ma quando mai? Ma chi le ha mai visti? Molto! Ma in realtà nessuna banca si è mai sognata in America di dare soldi a qualcuno. Le banche in America sono prevalentemente banche non commerciali, banche che quotano in questo senso, fanno dare i soldi, ma al mercato. Il più grande investitore degli Stati Uniti non è né Warren Buffett né Bill Gates ma è il Calpers, il fondo dei dipendenti pubblici della California che investe circa 800 miliardi di dollari. Il Calpers nato a seguito delle vicende del 29 è in realtà il tipico esempio di un modello del paese, modello che evidentemente non si può articolare facendo la norma e poi cercando il mercato dei capitali.